tdk wow wow mercoledì 10 di luglio andiamo a riprendere reprise un pezzo dell'83 di king love and pride questa si ballava si scullettava si faceva si facevano cose è l'83 e ci ascoltiamo king con love and pride that's world my world tdk mercoledì 10 luglio ci siamo eh vai come back to the world i'm on the entrance now love and pride start your journey early or maybe later don't look for a rainbow take your hair dry blow them all away if you want by the story i want to keep hearing if you want to see your colors just black or white if you want by the reason hope for all dreamers you are not getting my surprise of love and pride that's world my heart yearns for now love and pride that's world my heart yearns for now love and pride i i i i i i Allora cari amici vi è piaciuto il video? E allora fate like e iscrivetevi al nostro canale di Radio Russi Non perdete tempo che io ho bisogno di voi, ho bisogno di voi